E siamo ad un nuovo appuntamento con il sindacato Will Dell'Ario, ancora una volta protagonista dei nostri appuntamenti parlando di sanità, di identità di confine e di strategie per riuscire a trattenere il personale sanitario proprio qui in Italia che invece sta migrando verso la vicina Svizzera. Di tutto questo parleremo nel dettaglio con il nostro ospite, il segretario generale Will della Federazione Poteri Locali L'Ario e Brianza, Massimo Coppia. Ben arrivato ad Angoli, grazie. Grazie per l'invito, buonasera. Allora, io ho introdotto naturalmente in maniera sommaria l'argomento, ma lascio a te proprio il dettaglio della questione e sono consapevole che sia una situazione molto delicata. Come la vuoi inquadrare? Allora, noi facciamo subito un passaggio. Questa indennità, l'idea di un'indennità di confine nasce nel 2014. Come mai già in quel momento? Perché già sentivamo la pressione della Svizzera, però non c'erano grandissimi numeri, ma già si vedevano che qualche professionista dei nostri, tipo qualche medico specialista o infermieri del blocco operatorio e pronto soccorso venivano attirati presso la Svizzera. Quindi segnale premonitore? C'era un segnale premonitore. Poi, cercando sempre di tenere alta la guardia, i livelli di attenzione, i numeri hanno incominciato ad aumentare. Sono aumentati talmente tanto dal Covid, dal post-Covid, che è diventato un allarme vero e proprio, cioè noi la chiamiamo l'emorragia di personale sanitario e socio-sanitario verso la vicina Svizzera. Come mai il Covid ha, tra le tante conseguenze negative, portato anche questo tipo di conseguenze? Sicuramente non solo un aspetto economico che può essere un indice abbastanza intuitivo, perché se un infermiere specializzato in Svizzera può, dopo cinque anni, arrivare a uno stipendio di 77 mila franchi, a noi capiamo benissimo che non c'è mercato. Ma anche perché le aziende ospedaliere, nel momento del Covid, sono saltate tutte le organizzazioni interne e si è ragionato a livello d'emergenza. Il personale già deficitario dai tagli che c'erano stati dal 2010 ad oggi, in quel momento si parlava del meno 35-45% del personale sanitario e socio-sanitario all'interno delle strutture sanitarie, è entrato uno tsunami all'interno. Quindi è una questione di forte stress lavorativo anche? Oltre forte stress lavorativo, ma anche di carichi di lavoro eccessivi, che il personale ha deciso delle volte anche di licenziarsi e fare altro. La Svizzera... Altro completamente un altro lavoro, perché piuttosto che rimanere in quella morsa, in effetti così impegnativa, qualcuno ha anche deciso magari di abbandonare la propria professionalità? Esatto, perché non solo, ma proprio se vogliamo fare un discorso a livello anche mondiale, tutte le democrazie migliori che ci sono all'interno anche della Unione Europea, si parla della Germania, si parla dell'Inghilterra, ma anche della vicina Svizzera, tantissimi professionisti sanitari hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro e si sono messi a fare altro, perché il Covid è stata un'azione perentoria e distruttiva all'interno, che oggi io parlo della sanità 4.0 dopo il Covid. Addirittura, quindi è un'era completamente diversa e non migliorata sicuramente. Allora, alla luce di queste considerazioni chiare, ma anche abbastanza drammatiche, oserei dire, qual è la proposta? Che cosa si può fare? Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato con i nostri iscritti, abbiamo parlato col personale medico, sanitario e socio-sanitario, ricordo gli ossa anche, di tutte le categorie che noi seguiamo, abbiamo fatto degli incontri cercando di capire che cosa si poteva fare. E ci è venuta in mente questa indennità di confine, abbiamo fatto una raccolta firme nei nostri territori di come dilecco delle strutture pubbliche e private, abbiamo consegnato... Ma è che riguarda sia il pubblico che il privato? Che riguarda il pubblico e privato, perché il sanitario è pubblico e privato, non è che distingue la divisa o il contratto, il Covid non ha guardato in faccia nessuno, sia i colleghi dell'RSA che i colleghi dei pronto soccorsi e degli ospedali pubblici. Abbiamo fatto una raccolta firme oltre 1.100, le abbiamo consegnate all'allora Presidente del Consiglio Alessandro Fermi e lui le ha consegnate direttamente nelle mani del Presidente della Regione Fontana. Noi avevamo fatto anche un interpello al Presidente Fontana. In che modo? Abbiamo chiesto intanto un incentivo economico che poteva essere preso dagli extra profitti che sono stati fatti delle banche oppure delle big pharma. Quindi alla domanda dove andiamo a prendere i soldi avete anche dato delle proposte. Abbiamo dato anche delle proposte sull'evasione fiscale, ricordiamo che in Italia ci sono 110 miliardi di evasione fiscale più altrettanti di elusione fiscale, i soldi se si vuole cercare si trovano. Ma abbiamo fatto anche altro. Abbiamo chiesto una Pax Tax, ovvero una tassazione agevolata proprio per quel personale che parte da Varese, passando per Como, Sondrio e nella vicina zona lecchese. Perché diciamo questo? Perché capiamo che non può essere un impatto economico, lo stavamo dicendo prima, prendono quattro volte tanto i stipendi dei nostri colleghi. Ma cercando... Questo non si potrà mai pareggiare in maniera, non esiste. Almeno che non lo so quello che può succedere. Però se noi andiamo a portare qualche soldo in tasca e nelle buste paga, in più deprimiamo la tassazione per quanto riguarda la cosiddetta Pax Tax, credo che la miscela sia almeno uno strumento che possa dirimere la fuga verso la Svizzera. Perché dico questo? Perché gli italiani che passano, i colleghi che passano oltre Alpe non lo fanno a cuor leggero. cercano sempre di... Quindi c'è anche il lato negativo della questione. Sì, perché le tutele sindacali in Svizzera non sono di certo quelle italiane. Faccio un esempio. Un diritto alla maternità in Svizzera è due mesi. Quindi comunque c'è il pro e il contro come c'è in tutte le situazioni. Quindi la vostra proposta, che immagino avrete anche discusso con gli operatori per poi andarla a proporre, come è stata accolta proprio dagli operatori stessi? Dagli operatori positivamente sono contenti, ci chiamano sempre perché che cosa è successo ultimamente? Che nella bozza della legge di stabilità, l'articolo 50, si parla finalmente di premio di confine, lo chiamano, per non indennità di confine, insomma, per distinguerla un po'. Ma perché è la nostra proposta? Perché il ministro Giorgetti nelle sue varie interviste ha capito realmente quello che chiediamo noi, perché non chiediamo la luna, ma noi stiamo cercando di trattenere il nostro know-how all'interno della nostra Italia, perché se noi paghiamo l'altissima formazione che hanno medici, infermieri, tutto ciò che riguarda i tecnici, i fisioterapisti, gli OS, li regaliamo direttamente alla Svizzera, noi ci impoveriamo sempre di più. E questo è un aspetto sul quale io vorrei ancora puntualizzare con te, perché di fatto la nostra sanità è vero che si trova in un momento molto particolare, complicato e di crisi, lo vediamo praticamente in maniera quotidiana, e andare sicuramente peggiorato dopo il Covid, come già ci hai ricordato tu, e un'emorregia di questo genere non può fare altro che impoverire, mandare via un know-how prezioso, ma poi tutto questo ricade ancora una volta sui cittadini. Ricade sui cittadini, ricade sulla... mi ricordo che si parlava di eccellenza della sanità Lombarda, su determinati requisiti, c'era lo scudetto in pratica del jackpot che qualche tempo fa c'era. Oggi ci troviamo purtroppo a discutere, io l'ho detto anche in un'assemblea pubblica, di chi si può curare da chi non si può curare. Chi ha i soldi per pagare X si può curare, altri no. Questo va contro la Carta Costituzionale perché noi abbiamo l'articolo 32 che la sanità è un diritto imprescindibile per quanto riguarda i cittadini. Che i cittadini lombardi, come i cittadini italiani, pagano le tasse e questo deve essere gratuito. Non devono pagare oltre le tasse anche un'assicurazione privata per far sì che il loro diritto venga esigito. Ma attenzione, 4 milioni di abitanti in Italia non sicura più. O mangia o sicura. Questo è l'allarme che tiriamo fuori noi. Giusto appunto, vediamo nel nostro territorio una sanità privata aggressiva. Aprono gli ambulatori, i poliambulatori davanti al Sant'Anna Vecchio. Ci sono grandissime situazioni di privato che stanno venendo sul territorio indebolendo la sanità pubblica e mi dispiace che la politica non stia facendo quello che deve fare ma silentemente sta passando il concetto che il privato per curarti devi pagare. Tutto molto chiaro. Io saluto e ringrazio Massimo Coppia per essere stato mio ospite. Sicuramente un argomento delicato sul quale torneremo. Spero il prima possibile. Volevo fare... Felicissimo perché devo dare un annuncio, vai. Devo fare gli auguri a tutti i nostri colleghi iscritti al nostro sindacato di Como, Lecco e Monza. Un abbraccio, un buon Natale e un buon anno a tutte le vostre famiglie. Grazie della vostra vicinanza, la sentiamo sempre e spesso. Grazie, grazie e buon Natale anche da parte nostra naturalmente. Prima di passare la linea all'informazione, un breve annuncio, rimanete lì. E prima di chiudere vi ricordo che il Lions Club Como Lariamo organizza per la serata di mercoledì 20 dicembre al Teatro Sociale di Como l'evento raccolta fondi per la donazione ad un non vedente di un cane del servizio Cani Guida Lions di Limbiate. Il Marco Berti and Friends è un charity dinner in palcoscenico, cena e concerto grazie alla partecipazione artistica del tenore Marco Berti, socio del club accompagnato dal tenore Marco Pelligra e dall'orchestra Archimoderni Veneti. Interverrà Giovanni Fossati, presidente della scuola Cani Guida Lions di Limbiate, associazione pensata, studiata e realizzata per offrire alla persona priva di vista un cane per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare. Per informazioni e prenotazioni scrivere alla mail grazie per essere stati con me, la linea all'informazione. Grazie a tutti!